Accessibility Days 2024, Sapienza, Università di Roma, 16 e 17 maggio. Un evento reso possibile dalla grande collaborazione di tante organizzazioni. Un ringraziamento speciale alle organizzazioni che ci sponsorizzano e alle persone che ci sostengono. Inclusione scolastica partendo dai libri digitali. Lucia Iacopini, formatrice e consigliere nazionale, Associazione Italiana di Slessia. Vogliamo comunque introdurre un attimo il tema sull'accessibilità dei libri scolastici e far comprendere a livello di premessa quanto questo tema che da un certo punto di vista sembra di nicchia ma in realtà diventa cruciale proprio per l'accessibilità per una persona con disabilità che poi vorrà avere una formazione al pari degli altri suoi compagni di studi. Anticipo giusto qualcosa nel senso che la disciplina legislativa contempla questo tema ma ovviamente Lucia sarà molto più brava di me a spiegarvi questo aspetto. Posso dire la mia esperienza personale ma di tutte le persone con disabilità visiva di quanto questa digitalizzazione degli strumenti di studio ha di fatto portato una rivoluzione copernicana perché immaginatevi che per chi aveva prima dell'avvento della digitalizzazione chi aveva una disabilità visiva gli unici strumenti per poter studiare erano di fatto libri in braille e audiocassette. Chiaramente erano tutti strumenti che richiedevano un grosso lavoro dietro per la loro produzione invece con l'arrivo appunto della digitalizzazione anche negli strumenti scolastici questo ha portato una maggiore facilità di produrre materiale ma al pari degli altri e soprattutto magari anche una più diffusione di testi perché magari prima ok io ti registro l'antologia XY in audiocassetta e magari però era più complicato avere un altro libro che fosse diciamo della stessa materia ma magari per approfondire l'alunno con disabilità visiva magari aveva più difficoltà a ricevere. Detto questo quando parliamo di libri scolastici accessibili ecco lì è un grosso tema nel senso che poi sì ho il libro accessibile ma poi questo libro in realtà è accessibile ma fino a un certo punto ecco qui che torniamo addirittura ancora più indietro delle audiocassette e troviamo appunto questo digital divide anche nell'istruzione e il digital divide nell'istruzione poi a cascata ha un effetto quasi esponenziale negativamente parlando per un alunno con disabilità sicuramente anche Fabrizio avrà una visione simile ma che potrà aggiungere qualcosa rispetto a quello che ho detto io allora i capelli bianchi servono a qualche cosa anche per improvvisare qualcosa insieme a Matteo in questo momento però volevo raccontarvi questa cosa io c'ero in entrambe due i casi che ci coinvolgono adesso in questa sessione ossia c'ero quando è stata pensata e creata la legge stanca e c'ero quando è stata creata e pensata emanata la legge per i DSA la legge 170 mi sa ricordatemi il numero penso che sia giusto quindi c'ero entrambe le volte e so perfettamente che in quella prima legge stanca c'è scritto nell'articolo 4 che il mondo del digitale della scuola deve essere accessibile e c'ero quando nel 2010 la legge a tutela delle persone con DSA è stata emanata e lì si spiegano molte cose di come dovrebbe essere fatte poi nelle linee guida non so adesso a tracciare quadri normativi che non vado fuori tema diciamo per quanto mi riguarda sarebbero in tema oggi ma fuori tema per me e c'ero quindi e so che i principi ispiratori erano e sono fondamentali peccato però che l'applicazione è dobbiamo tutti fare qualche cosa se siete qui immagino che avete un interesse per l'accessibilità per il tema dei libri digitali perché come dicevo giustamente Matteo il tema dell'inclusione e come dice anche il titolo di questa slide almeno ci portiamo avanti col tema l'inclusione scolastica la fai se puoi fornire i contenuti alle persone per farle accedere al contenuto accessibilità quindi è l'accesso al contenuto accessibilità digitale l'accesso al contenuto digitale per tanti anni abbiamo fatto abbiamo pensato che l'unico strumento fosse quello cartaceo ancora oggi qualcuno sostiene che si studia meglio sul cartaceo ma io non sostengo esattamente il contrario non che si studia meglio sul digitale che bisogna lasciare libertà alle persone di usare il proprio strumento come è sempre inaccessibilità inaccessibilità c'è la libertà delle persone di scegliere il proprio supporto la scalabilità anche in questo senso è una cosa che mi viene in mente che fa comprendere quanto poi l'accessibilità è un tema trasversale e alla fine secondo me se poi si comprendono realmente i principi si può poi applicare un po' a 360 gradi a tutti i campi possibili dico questo perché per esempio tu ieri hai fatto insieme a Michela Calanda un ottimo intervento per quanto riguarda i grafici l'accessibilità dei grafici ecco di fatto però poi questo approccio si può applicare anche a uno strumento digitale come il libro quindi ecco qua secondo me anche la trasversalità perché nei libri spesso nei libri anche nei contenuti che autoprodotti conosco anche esperienze di istituti che hanno messo nel loro DNA la autoproduzione del contenuto ogni volta che vedo dei libri li apro e guardo le impaginazioni e mi chiedo ma c'è uno studio reale su questa impaginazione o qualcuno l'ha messo lì perché è bello e me lo chiedo così come quando vedo un sito internet quando lo ispeziono nel codice quando lo ascolto con uno screen reader ma c'è qui perché qualcuno l'ha pensato oppure perché un copia e incolla qualunque un'idea che ha passato un amico un collega è comparso questo oggetto spesso purtroppo come diceva anche adesso Matteo spesso purtroppo è vero il contrario cioè quello che si è sempre fatto così e si continua a fare così e questo è un problema di accessibilità perché rendere accessibile un contenuto significa dare l'opportunità a tutti di accedere a un qualcosa l'esempio che faceva Matteo sull'analogia con i grafici è proprio anche nel discorso della rappresentazione visiva delle immagini qui siamo nel mondo dell'accessibilità e spesso ci si cala nell'idea che si riguardi il mondo delle persone non vedenti che è un errore sostanziale enorme perché molte persone come avrebbe spiegato speriamo che fra qualche minuto lo spiegherà lei Lucia per molte persone l'accesso all'informazione visiva è fondamentale l'accesso all'informazione visiva di cui parlavo ieri nello speech sui grafici per capire l'essenza di un grafico perché il grafico mi deve dare l'essenza dell'informazione è la stessa cosa di quando vedo un libro di storia e anziché leggere due pagine una persona che ha difficoltà a leggere può prendere un'immagine fissare nella testa quella immagine e costruirsi lì sopra la sua mappa mentale su quel concetto sono argomenti fondamentali che se non abbiamo con noi nel nostro bagaglio formativo non riusciamo a trasferirli non so se voi siete insegnanti o siete persone solamente interessate all'argomento ma trasferire un'informazione che possa essere riutilizzata dagli altri è una cosa difficilissima io faccio formazione Matteo da un po' di tempo un po' di anni fa avevo detto io con la formazione ho chiuso volevo smettere perché è faticoso trasferire le informazioni e se il supporto non c'è è terribilmente più faticoso trasferire un concetto e permettere agli altri di applicarlo secondo te Fabrizio questa ormai negli ultimi anni diciamo i big player sono un po' entrati ovviamente senza fare nomi nel mondo della produzione di libri in digitale quindi forniscono ebook reader e tra l'altro poi la direttiva europea sull'accessibilità la 882 del 2019 che entrerà in vigore ricordiamo nel 2025 contempla fra i prodotti e i servizi questi ebook ebook reader tu come la vedi diciamo tutte queste aziende che se c'è una eterogenità oppure c'è una omogenità almeno per quanto riguarda già degli standard di accessibilità o c'è ancora hai paura che forse nel 2025 non so come ci arriveremo su questo tema questa paura anche perché anche qui richiamo i miei capelli bianchi e vedo qualche collega in sala che mi può sostenere in questa cosa che il concetto di libro digitale per tanti anni è stato che vado lì vado sul computer e sento che si sfoglia e fa e c'è il suono della pagina che si sfoglia e c'è stato il tentativo di riprodurre il libro di carta uguale sul digitale che è un errore nel mondo digitale sostanziale la trasformazione digitale si chiama trasformazione non si chiama replica del mondo analogico per tanti anni abbiamo fatto invece il contrario abbiamo cercato di replicare il mondo analogico e queste cose di cui parla Matteo libro liquido libro digitale libro c'è ancora una confusione sostanziale lo dico anche con tanta diciamo sofferenza perché io in prima persona ho seguito il processo di creazione di libri digitali da parte delle case editrici che per anni si è pensato che un libro digitale fosse il pdf di stampa è solo un pdf di stampa non può essere considerato un libro digitale poi chiaramente sappiamo che gli standard forse su questo forse c'è il nostro collega Roberto Scano che sta ancora lavorando per scrivere un qualcosa che integri l'accessibilità anche nei libri digitali quindi non ci sia non abbiamo ancora neanche diciamo una norma tecnica forse che ci può aiutare detto questo però alcune basi esistono e dovremmo applicarle se fornisco un contenuto video qualcuno quel video non potrà vederlo se fornisco un contenuto audio quell'audio qualcuno non potrà sentirlo se fornisco un contenuto scritto quello scritto qualcuno non potrà leggerlo quindi queste cose o ce le portiamo dentro a prescindere dalla legge dai concetti delle norme tecniche se ce l'abbiamo dentro noi sappiamo già qual è la nostra destinazione certo è un po' faticosa ma fare bene è faticoso poi se si trovano state giuste diventa soddisfacente e diventa anche agile perché anche qui il concetto in informatica è notissimo il concetto di lavoro agile che poi è agile che corrisponde un po' al diciamo al significato italiano della parola anche se non è vero perché il concetto agile vuol dire tutta un'altra cosa ma rendere le cose semplici è fondamentale quindi quando il mio supporto è complesso è inaccessibile è inadeguato il messaggio che passa di sicuro non potrà essere quello efficace ogni tanto guardo la porta perché spero che arrivi qualcun altro che non è chi è entrato in questo momento io ho un altro che sicuramente è una domanda che forse anticiperà la domanda di qualcun altro secondo te in tutta questa evoluzione richiesta nel mondo dei libri scolastici la domanda di quest'anno l'intelligenza artificiale può dare un supporto ovviamente non dico sostituire perché questo secondo me è una cosa almeno che abbiamo fissato deve affiancare in tutti i processi di produzione e di creazione di un output ma secondo te l'intelligenza artificiale può avere un ruolo su questo su questo tema allora innanzitutto non è che può ce l'avrà e ce l'ha quindi trattare le cose per quello che spaventano è sempre sbagliato anche il libro digitale ha spaventato le case editrici per anni si sono rimbellate in tutti i modi impossibili e immaginabili pur di non farli digitali poi hanno dovuto cedere perché il mercato è quello così come la tv generalistica per anni ci hanno riempito le trasmissioni di pericolosità di internet quasi non lo sentiamo più perché non puoi impedire alle persone di usare internet e così l'intelligenza artificiale sicuramente sarà un supporto fondamentale nell'editoria anche ma la parola chiave è sempre quella della consapevolezza come la utilizzo quali sono i meccanismi che posso utilizzare dell'intelligenza artificiale per arrivare agli scopi che mi sono prefissato e se lo utilizzo come gli accessibility overlay dico una cosa che forse non mi interessa però qualcosa che io compro e appiccico sul mio sito per renderlo accessibile si sa già già come ve l'ho detto vuol dire che non funziona no quindi se io non so fare lezione dico adesso la faccio con intelligenza artificiale vado lì dico quattro cose lo facevo male prima e lo farò male dopo non mi aiuterà in quello però chiaramente cercate di capire quali sono i meccanismi che mi possono aiutare per cucire le le caratteristiche dell'intelligenza artificiale in quello che mi serve secondo me è una cosa molto interessante poi se ci saranno spazi di riflessione che ci dovranno essere anzi no se ci saranno ci dovranno essere spazi di riflessione ne parlavamo anche ieri sera a cena con altri colleghi ma se tu pensi Matteo al fatto che quanto può essere problematico il fatto che tu parli con un con un qualcosa che ti riporta indietro solo condizioni per te belle si parlava di Alexa Alexa che tempo fa domani a Roma ciao Fabrizio con questa intonazione mi chiama per nome è gratificante quindi l'apprendimento a volte non è gratificante è faticoso quindi il pericolo anche di applicare cose nuove perché sono semplici gratificanti è un pericolo perché si rischia di farlo senza consapevolezza e se questa consapevolezza riguarda i nostri figli chi dovrà costruire quello che viene dopo di noi è chiaro che è una responsabilità enorme sicuramente è questo il punto tuttavia diciamo che poi la il libro scolastico poi in questo secondo me sull'intelligenza artificiale può aiutare magari anche nella produzione di contenuti multimediali nel senso che noi abbiamo comunque il vantaggio di un libro scolastico digitale che sostituisce un libro cartaceo il valore aggiunto forse è proprio questo no? cioè l'elemento multimediale contenuto e se l'intelligenza artificiale come si diceva anche a Microsoft il tema principale è il suo addestramento se nella sua produzione c'è una produzione accessibile ecco qui che magari appunto ci può supportare nell'output finale detto questo ci deve essere sempre una supervisione un accompagnamento che va appunto sia nell'addestramento ma sia nella verifica finale dell'output immeritatamente abbiamo sostituito l'uscita che per fortuna è arrivata penso che sarà riposatissima qualche problema logistico diciamo ti lasciamo il posto senza neanche chiudere i discorsi aperti dicevo mio amico non te ne curare buonasera a tutti scusate davvero ma c'è stato un recupero di fortuna alla fila dei taxi sono io vengo da fermo nelle Marche sono passata per Bologna vi dico solo questo ecco diciamo un giro largo ok quindi avevi già iniziato tranquilla non te ne ecco non me ne cura buonasera a tutti io stasera vi volevo parlare un po' dell'accessibilità a scuola soprattutto per i libri scolastici non so se avete già scorso le prime slide perché no guarda Lucia abbiamo diciamo ci siamo fatti una una chiacchierata introduttiva sul tema non conoscendo ovviamente il contenuto delle tue slide quindi sarà anche interessante capire se abbiamo detto cavolate rispetto abbiamo parlato della dell'importanza sono partito dalla mia esperienza personale diciamo sulla su quanto un libro digitale diciamo ha cambiato la prospettiva la visione possiamo dirlo di una persona di uno studente con disabilità visiva anche se ovviamente questa è solo una piccolissima parte abbiamo passati a capire come questo tema può essere diciamo gestito con l'introduzione dell'atto europeo dell'accessibilità ed infine la domanda delle domande è ok che ruolo avrà l'intelligenza artificiale su questo su questo tema quindi diciamo è stata un po' una chiacchierata sul tema allora in realtà io a parte trattare temi generali non entrerò in temi tecnici perché io sono un insegnante mi occupo di inclusione scolastica da sempre e da sempre lotto nella scuola perché i materiali possano essere accessibili a tutti l'approccio noi oggi siamo nel mondo dell'inclusione anche nella scuola ormai si parla di didattica inclusiva perché questa prevede un approccio che sia sin dall'inizio rivolto a tutti gli studenti e che non preveda aggiustamenti successivi questo significa che nella scuola bisognerebbe prevedere che il progetto didattico le strategie didattiche l'uso delle tecnologie i linguaggi ma anche la scelta di materiali debbano essere fatte in ottica inclusiva quindi debbano essere in grado di raggiungere tutti i miei studenti prescindendo dalle loro caratteristiche individuali quindi io mi sono un po' chiesta io lavoro nella scuola ovviamente da sempre posso definirmi una migrante scolastica perché come tutti quelli che hanno fatto il lungo percorso di precariato ho girato molte scuole mi occupo di disturbi specifici di apprendimento perché faccio parte dell'associazione italiana l'islessia e mi occupo di inclusione in generale ma anche di disabilità quindi uno sguardo abbastanza trasversale e uno sguardo longitudinale quando diciamo che nella scuola le metodologie didattiche i materiali devono essere accessibili diciamo che devono essere fruibili con facilità da qualsiasi tipo di utente questo perché perché tutti gli studenti hanno pari diritto alla partecipazione della vita scolastica e dell'apprendimento torniamo un po' sul fatto che se parliamo di didattica inclusiva dobbiamo sicuramente pensare alle strategie didattiche le metodologie ma bisogna necessariamente partire dai materiali che utilizziamo che sono i libri di scuola sicuramente ne avete parlato fino adesso i libri di scuola non sono spesso accessibili devono permettere agli studenti di poter accedere in modo autonomo e quindi permettere la decodifica devono permettere di non offrire ostacoli alla comprensione quindi già siamo in un secondo livello devono permettere un'interazione con questi materiali e questi contenuti e in ultimo in ultimo devono poter permettere una condivisione di questi contenuti e di questi materiali fra docente e studenti fra studenti se pensiamo per esempio alle strategie didattiche che prevedono la cooperazione fra studenti il cooperative learning quindi tutto quello che io apprendo devo poterlo comunicare e condividere con i miei i miei compagni di classe o comunque con il mio entourage possono essere anche i docenti questo è quello che il libro dovrebbe permettere di fare chiaramente spesso ci fermiamo al primo step cioè accedere in modo autonomo alla decodifica del testo questo vale per una tipologia abbastanza eterogenea di studenti vale sicuramente in modo particolare per tutti gli studenti con disabilità visiva e per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento nello specifico con dislessia chiaro che se non abbiamo dei materiali che ci permettono un approccio diretto e autonomo alla decodifica del testo scritto noi ci fermiamo al primo step e quindi ci chiediamo è possibile proporre e parlare di didattica inclusiva se non parliamo anche di accessibilità sicuramente in questo in questi due giorni avrete parlato spesso della legge stanca io lo ripeto sempre nella scuola la legge stanca andrebbe ripassata perché stanca non aveva dimenticato l'ambiente scolastico aveva detto le disposizioni della presente legge si applicano al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine grado sembra una una tautologia chiaramente se parliamo di accessibilità è chiaro che deve essere accessibile tutto il materiale la legge stanca è del 2004 sono passati 20 anni e attualmente non possiamo dire che sia un problema risolto tutt'altro è un problema ancora molto presente quindi i libri scolastici più che un'opportunità di apprendimento diventano un ostacolo apro e chiudo una parentesi molto sintetica su tutte le alternative che a scuola ci inventiamo per bypassare un libro che non è accessibile e sono gli appunti le dispense dell'insegnante che però sono percorsi alternativi rispetto alla didattica che l'insegnante crea per tutti io voglio augurarmi di essere in un mondo dove la didattica che viene proposta possa essere tale da poter raggiungere tutti allo stesso modo e non dover prevedere degli aggiustamenti successivi per alcuni attualmente possiamo dire che la gran parte dei libri scolastici perlomeno nell'esperienza diretta e indiretta che io posso portarvi qui non sono accessibili e però quello che quella riflessione che vi porto oggi è questa però ci sono le tecnologie e le conoscenze necessarie per renderli tali allora perché non sta avvenendo questa questa diciamo questa comunicazione fra quello che è il mondo scuola e le conoscenze tecniche che oggi ci sono siamo qui ne avrete parlato ne abbiamo parlato molto ne avete parlato in questi due giorni perché forse nella scuola non c'è ancora non è ancora arrivato il giusto livello di conoscenza tecnica perché sicuramente la scuola è consapevole dell'importanza dell'inclusione e di favorire la piena partecipazione a tutto a tutto quello che viene proposto a scuola quindi le attività didattiche e di socializzazione di tutti gli studenti eppure sembra che questa comunicazione fra conoscenze tecniche e consapevolezza non ci sia vi faccio un esempio veloce per quanto riguarda i disturbi specifici dell'apprendimento e nello specifico la dislessia io insegno in una scuola secondaria di secondo grado all'esame di stato spesso viene richiesto il file mp3 e non viene richiesto il file leggibile con la sintesi vocale il file digitale ogni volta in ogni scuola in cui mi sono trovata sia come docente che come consulente esterno il problema è sempre quello non c'è la consapevolezza della differenza per un lettore con dislessia di quello che può essere un file audio che è sequenziale e che non prevede un aggancio visivo al testo e quello che invece è un file digitale che permette al lettore con dislessia di rileggere la parte di testo che vuole tutte le volte che vuole alla velocità che vuole e quindi questo dimostra non in modo scientifico ma sicuramente esperienziale è che nella scuola non c'è una completa consapevolezza dei bisogni veri di ogni singolo studente e si fa un po' questo non è stato aiutato sicuramente dal periodo in cui si sono stati prodotti i libri per BESS che è stato cioè i libri per studenti con bisogni educativi speciali che sono libri che riuniscono in un'unica categoria persone con bisogni totalmente diversi quindi apro e chiudo su questo allora però mi sono chiesto anche questo dando per scontato che le conoscenze tecniche ci sono e che con una bacchetta magica riusciamo in qualche modo a trasportarle in un istante nel mondo della scuola e ipotizzando di vivere in un mondo ideale dove tutti i contenuti i libri possano essere accessibili secondo quelli che sono i criteri dell'accessibilità i libri accessibili sarebbero poi anche fruibili per gli studenti con DSA e questa è un po' la riflessione che vi porto perché abbiamo detto lato accessibilità non ci siamo ma ci fossimo allora ho provato ad analizzare alcuni dei criteri ma solo un esempio per mostrarvi come queste due cose non siano completamente sovrapponibili entrando nello specifico di alcuni di alcuni criteri per esempio il fatto che il testo non debba essere giustificato rientra fra le regole dell'accessibilità ma non è un criterio è un criterio di successo di AAA quindi non è un criterio obbligatorio insomma è consigliato ma non è obbligatorio quindi un testo giustificato potrebbe anche essere accessibile in realtà invece per il lettore con dislessia il testo giustificato costituisce un grave ostacolo perché disorienta perché diventa un muro di testo tutto uguale perché quindi questo muro non facilita per esempio la riduzione dei salti di riga che sono un sintomo diciamo sintomo un effetto molto evidente della lettura del lettore dislessico oltretutto il muro di testo non aiuta ad avere riferimenti visivi e quindi non aiuta la ricerca per esempio veloce della parola nel testo ma oltretutto il testo giustificato produce un effetto disorientante che è quello di mettere spazi differenti fra le parole per arrivare al testo giustificato quindi apparentemente più bello sicuramente non completamente accessibile secondo i criteri dell'accessibilità ma un ostacolo per il lettore con DSA un ostacolo ormai riconosciuto da tutti ecco vedete che allora i criteri dell'accessibilità non coprono completamente alcuni sì alcuni no un altro aspetto che per esempio è importante quanti ci siamo un'altra cosa importante di cui tenere conto è l'uso delle immagini allora le immagini chiaramente il lettore con DSA è molto più sensibile alle immagini quindi bisogna avere molta attenzione all'uso delle immagini che costituiscono in realtà un veicolo più immediato della decodifica del testo perché adesso non vi sto a raccontare nel lettore dislessico la decodifica del testo prevede una ricomputazione della decodifica del singolo grafema infonema e la fusione perché non c'è spesso il riconoscimento diretto della parola per cui diciamo grossomodo che una parola di due sillabe leggendo tre sillabe al secondo prevede un tempo di circa uno due secondi il riconoscimento dell'immagine invece viaggia ad una velocità di 50 millisecondi voi capite quanto può essere importante per un lettore dislessico l'aspetto visivo cosa che chiaramente non viene trattato in questo modo dai criteri che riflettono sull'accessibilità perché perché diciamo che è un tema un po' allatere cioè a noi nell'accessibilità chiaramente ci interessa che ci sia il testo alternativo che l'immagine sia significativa che sia contestualizzata ma nessuno ci ha detto che l'immagine deve essere essenziale perché chi approccia il testo guarda prima quella e quindi questo è un altro criterio vi voglio un attimo accompagnare anche su un aspetto che è molto importante rispetto ai libri digitali l'ancoraggio visivo così come le immagini anche il layout di testo per il lettore dislessico è qualcosa di visivo e di stabile su cui fare affidamento questo significa che per esempio nel libro liquido che di solito è la versione digitale che viene alcune volte la versione alcune versioni digitali dei testi scolastici sono libri liquidi che cosa fanno i libri liquidi in realtà permettono la massima personalizzazione ma che cosa fanno permettendo la personalizzazione spacchettano completamente il layout e quindi fanno perdere completamente i riferimenti e la stabilità visiva quindi da una parte i criteri i principi di accessibilità ci dicono che dobbiamo garantire la massima personalizzazione dall'altra però riconosciamo che per gli studenti con DSA la personalizzazione se è fatta in un secondo momento o in modo misto cioè io in classe utilizzo principalmente il libro cartaceo e per qualcuno o qualche volta o solo alcuni che è peggio ancora utilizzano il libro liquido ecco che io ho visivamente due ambienti diversi e quindi io non ho facilitato l'apprendimento ho creato un ostacolo un disorientamento inoltre il libro liquido attualmente che io sappia ma io non sono onnisciente quindi magari mi sbaglio non è uno standard e contiene delle insidie importanti forse anche per il mondo accessibilità quindi su questo non ne entro sul fatto che non sia un formato standard però sicuramente non mi garantisce la stabilità del formato la stabilità visiva anche le immagini si spostano perché il testo io lo personalizzo e nella personalizzazione chiaramente poi il layout salta un'altra cosa importante per lo studente con DSA è avere la possibilità di entrare nel testo come vi dicevo prima comprendere significa anche manipolare allora devo poter fare il copia e incolla devo poter tirare fuori i pezzi di testo per utilizzarli con i software per farci le mappe perché le mappe non le ridigito le parole una per una ma magari prendo pezzi di testo per fare le sintesi eccetera eccetera quindi il formato dovrebbe essere aperto tra l'altro i libri digitali che adesso arrivano nella scuola sono tutti in piattaforme online quindi per essere utilizzati hanno bisogno di essere i ragazzi hanno bisogno di essere collegati con la wifi cosa che a scuola questo non è possibile un passaggio veloce sull'interlinea e l'affollamento visivo abbiamo detto è importante la personalizzazione sappiamo che nelle WCAG deve essere permesso all'utente di modificare l'interlinea questo però crea un problema sia per quello che vi dicevo prima perché innanzitutto per farlo l'utente deve comunque intervenire sul testo quindi deve avere le competenze per farlo potrebbe essere lungo difficile laborioso e lo studente potrebbe non essere in grado di farlo in autonomia ma oltretutto ritorniamo sul problema di prima cioè io propongo un testo per tutti ma poi chi vuole se lo cambia se io sono tanto suscettibile all'aspetto visivo nel cambiarlo perdo i ancoraggi e ritorniamo come dicevamo prima sul libro liquido anche sugli indicatori testuali che sono un aggancio importantissimo per lo studente con DSA ma nelle WCAG noi abbiamo solo un'indicazione generica sul fatto che si può usare l'enfasi bold per cui un testo senza indicatori testuali sarebbe comunque accessibile in realtà niente ci viene detto rispetto a come usarli a qual è il criterio per cui un testo con due frasi tutte io l'ho fatto qui in bold in teoria o con senza è accessibile lo stesso per lo studente con dislessia no pensate un attimo ai libri di testo quanto è significativa la parola chiave che viene evidenziata rispetto a un testo che non le contiene o un testo che contiene interi periodi evidenziati quando si dice no proviamo con l'evidenziatore a sottolineare le parole chiave quando evidenziamo tutto non abbiamo sottolineato niente quindi anche questo è un tema che è tangente ma non è completamente compreso quindi ah un'altra cosa è il colore nelle WCAG si dice di non veicolare l'informazione solo attraverso il colore mentre per quella predilezione che ha una base totalmente fisiologica dell'accesso attraverso quello che è visivo dello studente dislessico il colore può costituire un codice semantico se noi lo associamo comunque a un codice semantico che aiuta nella decodifica e nella comprensione quindi non è così indifferente l'uso del colore anzi è consigliato l'uso del colore nel testo che deve essere letto e studiato dallo studente con dislessia poi questo discorso può continuare con un'analisi più puntuale ma il mio intento era quello di mostrarvi come da una parte l'accessibilità a scuola è un tema su che ancora bisogna lavorare in modo sistematico dall'altra parte pur lavorando sui temi dell'accessibilità non copriamo completamente quelli che sono i bisogni degli studenti con dislessia o comunque con disturbi specifici dell'apprendimento perché accessibilità e DSA non sono sovrapponibili completamente eppure siamo sempre nel campo del rispetto delle caratteristiche di ognuno e dell'equità e quindi mi chiedo come facciamo a unire questi mondi è necessario unirli perché non possono essere viaggiare su binari separati benché paralleli faccio un passaggio veloce sul fatto che noi dell'associazione italiana dislessia ci siamo posti tanto tempo fa il problema del libro digitale e abbiamo il servizio libro aid che in realtà mette a disposizione non dei veri propri libri digitali ma una versione digitale in pdf del libro scolastico questo chiaramente garantisce la permanenza dell'ancoraggio visivo perché è esattamente come il libro scolastico perché è il pdf di stampa in realtà e può essere un formato aperto quindi io posso interagire con il libro con i programmi di sintesi vocale e con i software che mi servono per creare le mappe per lo studio e tutto quanto questo servizio è riservato chiaramente ai soci è gratuito e vi dico che questo è un questionario che abbiamo fatto molto di recente per mostrarvi qual è l'ordine di scuola degli utenti che prendono i libri dal nostro libro aid si può accedere al libro aid anche con una certificazione di DSA ma anche con una certificazione di disabilità chiaro che ecco secondaria di secondo grado perché comunque la mole di studio e di lettura è superiore rispetto agli ordini di scuola precedenti 32% anche scuola secondaria di primo e secondo grado forse la scuola primaria è meno necessario queste sono le sezioni di provenienza noi abbiamo associazione italiana dislessia sezioni provinciali in quasi tutte le province italiane quindi vedete la distribuzione a parte questo marrone triangolino marrone 8,8% che individua la fetta abbastanza ampia della sezione di Milano per il resto c'è una distribuzione proporzionale alla grandezza della provincia nella distribuzione dei libri digitali con che cosa vengono utilizzati computer smartphone tablet quindi non sono responsive sono pdf però questo noi abbiamo proprio chiesto ai nostri utenti con che cosa li usate quali software compensativi vengono utilizzati su questi libri un po' tutti programmi soprattutto programmi per creare mappe il 75% li utilizza per creare le mappe vedete non solo per la decodifica e poi l'8% con il lettore di testo con l'utilizzo di tali strumenti e software ha notato miglioramenti dell'apprendimento il 59,9% dice notevoli miglioramenti e altri comunque leggeri miglioramenti c'è una piccola fetta che non è contenta ma è giusto perché perché andiamo le considerazioni finali perché in realtà si sono rimasti due slide sì 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 allora in realtà i nostri libri quelli di AID non sono libri accessibili e devono essere migliorati sicuramente ma è un servizio che in questi anni ha supportato tantissimo i ragazzi e che ha bisogno di essere migliorato e ci stiamo lavorando e soprattutto deve rispondere alle esigenze di tutti gli studenti compresi gli studenti universitari che in questo momento non hanno nessuno strumento di questo tipo e quindi noi come AID ci stiamo lavorando questo servizio in questi anni è andato ha funzionato può essere sicuramente migliorato ecco però c'è una differenza quando mi dicono ma c'è il libro digitale di scuola se è il libro liquido avete ho cercato di spiegarvi in modo semplice che non è proprio la stessa cosa per esempio i libri delle case editrici non sono aperti quindi io non ci posso entrare dentro con spesso non tutti alcuni li ho visti aperti con con i pochi con i programmi che mi servono per apprendere allora conclusione questa è proprio l'ultima slide è importante parlare di accessibilità ma non dimentichiamoci gli studenti con DSA che sono questa è una stima in basso in perdere perché in realtà non sono 3 milioni in Italia dovrebbero essere un po' di più 4 4-5 gli studenti con DSA in Italia quindi un numero considerevole allora non li dimentichiamo non dimentichiamo sicuramente l'accessibilità perché è un tema fondamentale e insieme ricordiamoci anche che esistono 3-4 milioni di persone che hanno bisogno anche di altro oltre che la base solida dell'accessibilità anche di qualche altra piccola accortezza e io qui mi fermo per lasciare spazio alle domande scusate la velocità ma grazie Lucia io sono rimasto abbastanza sorpreso del fatto che del giustificato dell'esempio che è fatto sul giustificato che è una AAA cioè quindi insomma per chi non lo sapesse una AAA vuol dire è un requisito che non è teoricamente vicolante per la normativa nel senso se lo fai bene se non lo fai va bene lo stesso nel senso che è sufficiente una AA criterio di successo OA o AA quindi ecco mi chiedo esistono delle linee guida dei testi ufficiali che facciano un attimo questa comparazione perché mi sembra di aver capito che tu ci stai dicendo guardate che le WCAG per certi versi non sono non contemplano bene tutti tutti gli aspetti che in realtà per alcune tipologie di disabilità o di deficit sono elementi fondamentali ecco quindi esiste un testo dove anche le persone diciamo possono orientarsi e capire bene quali sono allora negli anni ci sono stati tanti tentativi tanti testi poi chiaramente nel tempo io ne ho scorsi e visti diversi prodotti dalle università però le cose cambiano nel senso che quello che era valido come indicazione generale qualche anno fa poi un po' per la ricerca un po' per le risorse tecnologiche che cambiano non è più valido quindi io penso che sia il caso che l'associazione italiana di islessia ci lavori in modo organico per farlo cioè unendo tutti i gruppi di lavoro che sono necessari unendo un po' le esperienze delle varie di va de me come ne sono usciti tanti ecco ma non ce n'è uno unico perché le cose cambiano quindi sì ci stiamo lavorando perfetto grazie ci sono domande in sala o da youtube o insomma dai canali digitali ci sono domande in sala no sfiniti mi capisco tutto chiaro ci sono osservazioni riflessioni che volete condividere faccio un piccolo riassunto io mi occupo anche di progettare libri quindi per me è stato molto interessante prendere queste informazioni grazie l'associazione italiana di islessia siamo a disposizione se qualcuno volesse chiederci nello specifico oltre a questa accogliere questa proposta di stilare delle linee guida ufficiali quindi ci siamo perché noi questo facciamo come associazione italiana di islessia cerchiamo di far presenti i bisogni di tutte le persone e dei lettori con DSA che ricordiamo ancora non sono solo i lettori della scuola primaria secondaria di primo e secondo grado sono soprattutto i lettori universitari per i quali ancora non abbiamo grandi risposte e aggiungerei anche la difficoltà scolastici universitari e post universitari perché se è vero che c'è una formazione continua questa formazione continua deve essere fatta anche per persone con disabilità e DSA tra l'altro quando ci si trova in testi più specialistici quindi con case editrici specialistiche molto più di nicchia tecniche diciamo le cose lì si complicano secondo me ancora di più a far comprendere assolutamente materia scientifica per la musica sì materia scientifica sì ci sono dei problemi tra l'altro anche il nostro pdf di stampa non può leggere le formule è un problema vero eh io Lucia ti ringrazio prima prima di chiudere scusate ho dimenticato di fornirvi il codice per la certificazione della presenza che è il 9702 quindi 9702 grazie a tutti Erco Project ricerca e valutazione sull'accessibilità e l'esperienza d'uso abbiamo 15 anni di esperienza e oltre 300 progetti alle spalle ti aiutiamo a progettare esperienze inclusive e soddisfacenti portando l'accessibilità nei tuoi processi di progettazione sviluppo e conformità Accessibility Days 2024 Sapienza Università di Roma 16 e 17 maggio un evento reso possibile dalla grande collaborazione di tante organizzazioni un ringraziamento speciale alle organizzazioni che ci sponsorizzano e alle persone che ci sostengono a presto a presto